Ragazzi questo deve essere il video con più like del mese almeno e che dico 20.000 like in questo video io e Xuderon ci siamo già organizzati per trovarci ok questo è uno spoiler grosso 20.000 like ci troveremo in un bootcamp io Xuderon ed Efesto e probabilmente anche STR ma non siamo sicuri ma io Xuderon e Efesto ci incontreremo rifaremo la sfida 1v1 ragazzuoli dal vivo sarà ovviamente diverso per le reazioni e per tutto a 20.000 like spenderò perché parlo di per me anche lui ovviamente spenderemo un sacco di soldi perché lo starà un po' affittare una casa fare il viaggio e tutto benzina e così via però per il content e per voi secondo me è una cosa super figa da vedere la sfida dell'anno Piazza versus Xuder mi ha sfidato lui mi ha detto che mi avrebbe battuto che se la voleva giocare non che mi avrebbe battuto chissà come è andata Xuder versus Piazza il manager contro il content creator vediamo chi l'ha spuntato vi ricordo di iscrivervi al canale ragazzuoli avranno dei video fuori di testa in questi giorni cliccate il tasto iscriviti controllate di essere ancora iscritti al canale ma soprattutto inserite il codice creatore Piazza Proveni nello shop di Fortnite e taggatemi su Instagram Piazza Proveni ragazzuoli come sempre vi lascio qui la clip così potete inserirlo taggatemi su Instagram perché sto seguendo le persone che mi stanno taggando su Instagram con il codice basta solo inserirlo buona visione boys siamo morti tornate al centro rifacciamo il portale ma cos'è che sta succedendo passiamo il portale cambia 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 la stava a terminare dicono vabbè ormai fatto andiamo aspetta è Piazza che devo cambiare squadra adesso ok entro vai Piazza che devo cambiare eh seleziona squadra squadra 2 applica easy vado a scoppiare anche lei eh fino a un angolino grazie faccia i scoppi su è forte Piazza non saprei chi potrebbe vincere sincero ce la giochiamo è quello il bello addirittura va bene non mi vince Piazza quella scala lì è un po' bizzarro non ho capito come ha fatto a spararmi con gli ho messo la scala ma va bene no era mia era mia era mia era sua si si eh Piazza vado arrabbiato oggi lo schiuderò devo sempre far vedere che faccio schifo se no mi muore il personaggio come faccio nooo e certo Piazza uuuh cazzo ah ma se cazzo vabbè anche lui me l'ha data una non so quanto però ne ho sentita una importante Piazza ma che cazzo vuoi mi sta piacendo ma ce l'ha la mira di Piazza e si mica dico che non ce l'ha è tutto tuo meglio che vado via da qua non mi piace questo posto ah ma tutto vabbè niente eh vabbè vabbè ma è davvero tutto suo ma io non sto capendo niente sembra Jumanji qua oh ah a questo è stato bello c'è stato complicato eh sembrava Jumanji non stavo capendo niente era tutto suo che cazzo no vabbè ehh com'è il Minotauro com'è il pollicino del Minotauro e le patatine e il panini no patatine di x주 ehh cosa sto dicendo piazza lui ci prende gg che vedo il motivo perché io mi devo uno stronzo quindi sa sempre dove sono provo a fare una marcia indietro si 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 deve giocare un po meno ho ho perchè pure lui gioca come gioca lei xeter solo che lui magari sta di più vabbè che se lo dissa che non so xeter mica lei faccio un po di parkour qua di allenamento ma io non capisco questa come è già la seconda volta che me la fa è stata più carina scala gialla ero ero in piedi a metà sulla scala no no questo non è il nuovo format ragazzi ma la città è una cosa così ha detto 3 un quarto ha detto eh pensavo e vabbè piazza bravo cazzo pozzo dì bravo porco dì a te perchè ti ha bella stecca tira eh oh bravo gg possiamo fare altre 5 f no? si vado 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 un secondo eh scusi che io so come gioca lei ma non so come gioca piazza eh beh è normale è un modo di gioco diverso io con i f io ho giocato con wreckings e l'f è strano eh beh ho giocato per vincere piazza eh ma no vabbè ma è giusto che fa gioca per piazza eh no 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 proprio ho giocato per vincere il che non ti voglio lasciare un round per vedere se riesco a non fare la zona di round beh se non hai round me li facevi oh shit 200 questo palese 150 no come no eh mi hai preso in faccia da un metro gg qua ho preso proprio la mangusta mi è piaciuto anche un po' devo dire sono sincero eh io ho apprezzato poi veda lei bene bene la ringrazio la ringrazio ma non è un insulto quello Ayman potevi pure non eliminarlo comunque vabbè ovvio ovvio ma ho piazza attento c'è il drone che lei ha meno vita infatti 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 volevo fermare qua ho piazza che cazzo vuoi piazza no 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 che sfiga qua ma avevo poca vita eh avevo poca vita davvero no 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 avevo 40 di vita avevo davvero poco eh che cazzo vieni a farle qua piazza che mi sto curando e ti sei preso ma erca dia avevo poca vita qua 40 l'ho vista brutta scusami Efro volevo fare le altre 5 compiazzone scusa se eh si figuri io mi piace cantare ho detto così mi sembra pure brutto però a lei è un guardone eh cazzo ma tu però mai rotto il cazzo eh te lo dico eh 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 che cazzo fai ma hai sapertutto figa oh salve salve buongiorno arrivederci è stato un piacere anche per me grazie spettacolo eh io con tutti i mazga è tutto suo qua non sto capendo dov'è dov'è finita? eh vabbè niente non lo troverò mai più eccolo eh vabbè niente piazzone non sta continuo sei 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 qua il tuo ooooo bravo piazzone bravo bravo oh vabbè lo xulerone qua altro che letto fammi un attimo capire come giochi piazzone che poi arrivo figa maa perché il festo so a memoria come gioca eh festone mi piace è un po' infamore però dopo prima o poi qualche volta offline qualcosina la facciamo exeed marco cosa exeed? in che team sei? eh? no no che negli ultimi video ho portato più giustati contando che in italia nooo l'ho mancato contando che i più forti sono tutti senza team ho provato a flickare sono una scazza perché la strada di fronte che stava facendo le cose ero già pronto a flickare come un fenomeno ma non lo sono chi va all'altra parte? scusi exeeder da me dicono meno male che sapeva come giocavo io ma al 5 a 0 cosa diventava? eh vabbè ma effe ci sta inizio con efeston niente da fare adesso un po' capito perché fa delle cose che sono i suoi movimenti proprio i suoi naturali no ma i giocatori di molto più alto del suo livello li lascia a 0 non si con calma double edit che va un po' di panico per exeeder attenzione spacca le sue strutture ragazzi mi stanno aspettando come si aspetta un coglione piga oh non edita fra eh scusi impari a editare piatto si ma lei stia un po' zitto anche nooo che botta mio gane con lo scendino in mano exeeder ragazzi applauso no ne ha fatto un danno atroce applauso con lo scendino in mano di exeederone è che ne ha ne ha fatto un danno atroce però sei l'ultimo che faccio col piazzone e poi che via si si te lo lascio fsf1 che ore sono scusatemi ma io ti sparo piazza ti pare che ho problemi è giusto così dov'è? e lei non la vedo o dove sei? nooo avevo messo la scala e modifica eh ma era già uscito lei non sto capendo sei un uomo nooo l'ho mancato si lascia stare questo era hit però ma scusami un attimo eh 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 nooo vabbè exeeder lei l'ho hit in colpo di tanto se li va ma intanto exeeder non dico droppi ma com'è che l'ho mancato li va non sto capendo 28 ma che da noi 28 quello spazio si può fare così poco? eh già pretty maz holy shit così tanto ho blindato eh è vero che non lo ammazzo è vero che non lo ammazzo deve gestire la cosa che il piazza non ammazzo e questo no io non riesco perchè io non eh non capisco perchè ascolto voi i vostri discorsi scusatemi questo piazza era morto si no ero 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 con le pezze no exeeder ma lei non deve prendere lei ah no lei non ha capito che due di uno allora se parlate io ho zero proprio non che la spacco exeeder quindi